Buche e voragini nell'asfalto, presenza di immondizie, segni evidenti di degrado ambientale, insomma un paese che ha bisogno di cure e manutenzione. La denuncia è del Comitato Diritti e Doveri 2012 di San Chirico Nuovo, che chiede all'amministrazione comunale di intervenire e di farlo con la massima urgenza. Sui bambini, qui c'è l'asilo comunale, sopra quell'altro palazzo è l'asilo scuola elementare e scuola media. I bambini sentono di qua, possono mettere in pentaglio la salute dei bambini, questi gradini non si dovrebbero chiudere oppure altrimenti aggiustare, visto che fanno spese inutili. Non tengo conto del disagio, che ci sono persone che pagano le bollette e non mangiano nemmeno perché non possono arrivare con i soldi. I segni del degrado sarebbero evidenti anche nella villa comunale, dove gli anziani, a detta del Comitato, sarebbero costretti ad arrangiarsi alla meglio per i propri bisogni, vista l'assenza di bagni comunali, per non parlare poi della pericolosità dei giochi per i bambini. Poi c'è un regalo ambientale, nel paese c'è dappertutto, le stazioni, i serpenti, mettendo a rischio la vita dei bambini. Insomma, l'invito all'amministrazione comunale è quello di essere più presente sui problemi del paese.